Vimpio! 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 Io sono contento che ci sono diverse persone anziane come lo sono io, perché l'anziano è quello che verrà più danneggiato da questa riforma sanitaria, danneggiato perché gli stanno preparando una specie di cronicari invece di tenerli negli ospedali a essere curati, dove vengono sbattuti dopo un paio di giorni di ricovero nell'ospedale. Quello che noi chiediamo è il rinvio del piano sanitario, perché il piano sanitario non è stato concordato con le parti sociali vere, cioè con i cittadini. I comitati cittadini non sono stati ascoltati in commissione e neanche le associazioni, tranne pochissime che tra l'altro dicono che le loro istanze non sono neppure state accolte. Allora questo piano sanitario che arriva a fine legislatura deve essere bloccato. Un piano sanitario che prevede che solo cinque ospedali di area vasta li chiamano adesso. Hanno cambiato il nome, una modifica lessicale, da ospedali unici li chiamano nuovi ospedali d'area vasta. Ma sempre quello sono. Un unico ospedale per provincia con pronto soccorso completo. Secondo il modello Fano, abbiamo sentito prima gli amici del comitato di Fano che cosa ci hanno raccontato di quello che è successo a Fano. Con un protocollo di accordo tra regione e comune, quindi tra presidente della regione e sindaco, l'ospedale di Fano è diventato dipartimento dell'azienda ospedaliera di Pesaro. Senza primari, con i codici rossi solo di stabilizzazione. Vogliamo questo che accada? E gli altri ospedali? Ancora peggio. Nel piano sanitario c'è scritto che gli ospedali di comunità, quindi le case della salute, i 13 ospedali che sono stati chiusi cinque anni fa, saranno ceduti nelle loro strutture ai privati, convenzionati e non. Questo è la fine dei nostri ospedali. C'è scritto anche che gli ospedali ancora in funzione, ma i cui reparti sono in dismissione, saranno ceduti alla sanità privata. Non sto inventando. Andate a pagina 41 e 42 del piano sanitario. È un emendamento questo. Sono tre righe inserite due mesi fa a tradimento. E' un emendamento, una modifica anziché migliorativa peggiorativa, in cui c'è scritto che i reparti dismessi in via di dismissione. E quindi mi riferisco agli amici di Amandola, agli amici di Fabriano, a tutti i comitati qui che stanno vivendo sulla loro pelle i tagli. Quei reparti che sono in via di dismissione e gli ospedali dismessi in via di dismissione sono stati svenduti ai privati. Sappiatelo! E quindi il piano sanitario va rinviato alla prossima legislatura, alla prossima consigliatura. Bloccate il piano sanitario subito! Adesso vorrei che dopo di me parlassero gli amici di Amandola. Cerchiamo di dare voce a tutti i territori. Luisa, Riccardo, volete prendere la parola? L'ospedale di Amandola, faccio una breve sintesi, è stato un ospedale danneggiato dal terremoto, dal sisma. Bene, anziché ricostruire e sanare, hanno utilizzato il pretesto del sisma per declassarlo, per togliergli completamente anche quei punti di eccellenza che aveva. E vogliono costruire una nuova struttura, un poliambulatorio a posto dell'ospedale. Chiamiamole cose per il nome che hanno. Il nuovo ospedale che vogliono costruire ad Amandola, costoso in project financing, non sarà un ospedale, ma un poliambulatorio. Vi passo la presidente del comitato da Amandola, aderente al comitato regionale prospedali pubblici mani. Buongiorno a tutti. Noi veniamo, come sapete, dal territorio montano dei Sipindini. Un vastissimo territorio che comprende 30 comuni con un bacino di utenza di circa 20.000 abitanti, tristemente noto per gli eventi sismici del 2016. Il nostro gruppo proviene principalmente da Amandola, dove fin dal giorno successivo, la prima scorsa sismica del 2016, è stato chiuso l'ospedale Vittorio Emanuele II. Una chiusura del tutto ingiustificata, in quanto sia l'ospedale di Amandola che la RSA, quest'ultima antisismica costruita nel 2008, potevano e potrebbero ancora essere recuperati e migliorati sismicamente, con una cifra inferiore, badate bene, al milione di euro. Ciò è provato dalla relazione tecnica sulla vulnerabilità sismica, redatta dall'Asur Marche nel maggio 2019. Pertanto possiamo affermare che la mancata riapertura dell'ospedale di Amandola è stata una scelta politica, come il non aver voluto costruire nell'immediato un ospedale da campo completo di tutti i servizi sanitari, come la chirurgia generale ridotta che avevamo, come l'anestesiologia che avevamo, come un vero pronto soccorso. Non lo avevamo questo, avevamo un punto di primo intervento, servizi che ci spettano e che non sono mai stati riattivati. In tal modo si sarebbe speso molto meno denaro pubblico e avremmo avuto in breve tempo riattivati tutti i servizi sanitari. Unica eccezione a questo sperpero è il servizio di dialisi, che per fortuna è stato riportato in modo eccellente nel nosocomio del Vittorio Emanuele II di Amandola, mentre altri servizi sono rientrati in modo del tutto parziale, come la diagnostica, la radiologia, un tempo H24, ora d'orario ambulatoriale, ed il punto di primo intervento che viene impropriamente chiamato così quando non è altro che un punto di assistenza territoriale è poco più di un ambulatorio privo persino di emoteca. L'emergenza urgenza vengono quasi sempre dirottate all'ospedale di riferimento di fermo a 60 chilometri di distanza, costringendo il malato ad estenuanti trasferte con familiari al seguito su strade pericolose, specie d'inverno. Volendo parlare poi di tempestività nelle emergenze urgenze, cioè degli elicotteri, tanto sbandierati, degni di zone irraggiungibili, non li abbiamo in sede e non si alzano in volo in presenza di avversità climatiche, come nebbia o vento, come quello di oggi per esempio, da noi assai frequenti, ma soprattutto gli elicotteri non sono ospedali. La drastica riduzione assistenziale avvenuta nel post terremoto, cosa peraltro paradossale, ha determinato la rinuncia da parte di molti, per lo più anziani, a curarsi o a fare prevenzione. Anche per questo da oltre tre anni assistiamo nel territorio dei Sibillini all'iperbolico innalzamento dell'indice di mortalità. Assistiamo impotenti ad uno stilicidio con inevitabili ricadute economiche che vanno a colpire un territorio la cui tutela non è più sorretta dalla forte trama del tessuto sociale che avevamo. Con la chiusura degli ospedali dell'entroterra il progetto ASUR ha avuto una forte accelerazione per cui assisteremo allo stravolgimento della peculiarità territoriale marchigiana e contemporaneamente all'accentramento sanitario che determinerà inevitabilmente la desertificazione dei territori dell'entroterra. A noi di Amandola e Sibillini hanno promesso un nuovo ospedale con una spesa di 18 milioni 800 mila euro, denaro insufficiente per avere un ospedale completo di tutto. La nuova struttura infatti sembra che non avrà un vero pronto soccorso, né una chirurgia generale ridotta, né una rianimazione. Quindi la nuova struttura sanitaria tanto sbandierata dai nostri amministratori non potrà chiamarsi ospedale! In nessuna maniera! Stanto è così le cose avremo invece un cronicario con poliambulatorio annesso. Pertanto noi temiamo fortemente che oggi con l'approvazione del nuovo piano socio-sanitario il territorio dei Sibillini e quindi anche l'ospedale che andrà a sorgere fra qualche anno ad Amandola finiscano per appartenere a zona particolarmente disagiata. In tale zona invece di vedere aumentati i servizi sanitari come vorrebbe la logica di verrà legge l'attuale declassamento penalizzante nei servizi erogati e nel personale sanitario nei confronti di una popolazione già fortemente provata. Noi cittadini dei Sibillini ci uniamo quindi a tutti voi per grittare forte no a questo piano socio-sanitario anche a nome di chi non è potuto essere presente ma avrebbe voluto, anche a nome di chi ha avuto timore di essere qui. Chiediamo piena tutela della salute, un diritto oggi messo a nostro avviso seriamente a rischio. Quindi per cambiare il nostro destino è chiaro che occorre impostare l'amministrazione sanitaria con una visione lungimirante e propositiva. Noi pretendiamo che la tutela sanitaria non si riduca, specie nelle nostre zone, a cronicare senza speranza. Abbiamo diritto anche noi ad un futuro propositivo che assicuri tutti i servizi di una sanità che resti pubblica. Equa, equa, soprattutto equa, anche laddove pochi hanno eroicamente scelto di rimanere a tutela di un magnifico territorio per l'interesse di tutti. Guardate, io voglio aggiungere una cosa. È bello vedere tutti i colori politici. In questa, ecco, è bello vedere tutti, essere tutti insieme per uno scopo unico. Io lo dico sempre, la disabilità, per quanto mi riguarda, non conosce colore politico. E vedere tutte queste bandiere di tanti partiti a me sinceramente fa piacere. Per favore, per favore, se c'è qualche rappresentante di Senigallia. Sì, Massimo. Nessuno si vuole prendere prima. Ecco, ecco. Ecco. Aspetta, Massimo. Anche noi del Comitato di Senigallia siamo qui oggi a protestare, a protestare contro questo modo di gestire la sanità che oramai sta diventando sempre più volte al privato, lasciando spazio a quello che dovevano essere invece gli interventi pubblici. Questa non è una battaglia di civiltà. Questa, ricordiamolo, è una battaglia dei territori ed è una battaglia della vita. Qui la gente si sta dimenticando, piegata al denaro, di quelle che sono le esigenze e i pericoli che ognuno di noi sta vivendo quotidianamente. Questo vale per i territori dell'entroterra, ma questo vale anche per coloro che vivono in realtà, come quella di Senigallia, che nel periodo estivo si riempiono e nonostante questo hanno dei tagli in quanto distribuiti i servizi su tutta quanto un territorio molto più vasto. Oggi ringrazio tutti quanti voi perché intanto ci date la forza di andare avanti in quanto siamo tanti e spero che saremo sempre di più. E l'importante è non dividerci tra singoli territori, ma poter creare una rete unita, unita, che colleghi tutte le marche e che dica no a questo nuovo sistema, no a questa sanità sempre più privata e sempre più pubblica, sì ad un rinvio verso coloro, a un rinvio dopo che praticamente ci saranno i nuovi rappresentanti della nostra popolazione, quindi anche i nostri rappresentanti. grazie a tutti quanti voi. Adesso c'è qualcuno che vuole intervenire, ecco Alessandro. Buongiorno a tutti, siamo pochi ma buoni. Io sono il rappresentante del Comunato di tutta la sanità di Pesaro. Siamo in pochi perché i pesaresi sono abbastanza anessitizzati dall'alone di Ricci, qui ci sono i socialisti, ma il quale da assessori ai socialisti, quindi non so il motivo della loro presenza. Noi abbiamo inviato una lettera a Speranza, io gliel'ho consegnata nelle mani con un dossier su tutte le criticità dell'ospedale unico di Pesaro. C'è arrivata una risposta, non di Speranza, ma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove si dice che il DIPE non ha mai dato parere favorevole, riconosce le criticità. Mi chiamo Alessandro Di Mari e sono il rappresentante del Comunato di tutela la sanità di Pesaro. Il DIPE, quindi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riconosce le criticità sia a livello economico sia a livello idrogeologico della costruzione dell'ospedale unico a Muraglia. Quindi se anche Roma, la stessa maggioranza di governo, qui rappresentata da Ceriscioli, non dà parere favorevole alla costruzione dell'ospedale unico di Pesaro. Io dico, qui dentro si sta riunendo il Consiglio regionale o il Consiglio di amministrazione del PD? O si sta costruendo il bilancio del PD? Allora, l'Arenco che costruirà l'ospedale unico a Pesaro è in crisi. Si stava svendendo tutti i villaggi turistici per cui il nostro Presidente Amato qua dentro ne ha fatto visita varie volte con voli pagati dalla regione. Il sozzo che aveva i gasdotti si è staccato e quindi l'Arenco deve risanare le sue casse con i soldi dei cittadini, è chiaro, e costruisce l'ospedale unico a Pesaro, cosa che non serve perché noi non vogliamo contenitori, noi vogliamo contenuto, vogliamo personale, vogliamo macchinari e questi macchinari devono essere sempre accesi. Loro ne hanno avuto di opportunità per potenziare, stato Decreto Calabria per aumentare il 5% il personale sanitario, non l'hanno risapito, è chiaro, nelle Marche, nel sud delle Marche stanno spuntando cliniche private come i funghi, vi chiedete perché? Le convenzioni stanno ammuntando, vi chiedete perché? qui siamo nella logica democristiana, nella prima repubblica che dobbiamo fare sempre i favori agli amici degli amici, basta con questa logica, basta! La sanità è pubblica, deve rimanere pubblica! tutti devono avere l'opportunità, il tattico 32 della Costituzione deve raggiungere tutti la sanità e quindi noi diciamo no a Pesaro, siamo in pochi perché i pesaresi non si rendono conto della catastrofe che gli sta arrivando, noi dicono noi abbiamo l'ospedale unico nella città, ma non si rendono conto che, mentre ha lo smog, che le case verranno svalutate, ma lo capiranno e quindi noi non seguiremo altri esempi come quello che è stato fatto con l'ospedale dell'Angelo in Veneto, dove ancora sono in crisi ed è la Regione che sta più bene, è un ospedale costruito con i Posit financing, sta dando problemi alla Regione Veneto, quanti problemi darà la nostra Regione questo ospedale, questo Ecomostro? io vorrei far ragionare su questo, e niente ho finito, grazie mille grazie grazie rappresentante per la città di Iesi allora intanto può parlare Baldelli di Pergola, l'ex sindaco di Pergola grazie grazie a tutti, ma soprattutto grazie al Comitato io dico che a tutti i comitati che compongono il Comitato regionale pro ospedali pubblici va rivolto un grande applauso perché sono stati gli unici a indire un sit-in contro uno scellerato piano sanitario regionale che cancella il diritto alla salute non solo delle aree interne e dell'entroterra ma anche dei cittadini della costa perché col piano sanitario regionale che è in approvazione quest'oggi si crea un imbuto che non permetterà nemmeno ai cittadini della costa di avere servizi adeguati di assistenza ospedaliera degni del secondo millennio e di questo dobbiamo ringraziare sicuramente Ceriscioli che si è messo a capo di alcune lobby lobby private che vogliono smantellare la sanità pubblica a favore degli interessi dei privati e questo non lo possiamo accettare ma sia chiaro l'ho sempre detto da sindaco della mia città che vede il suo ospedale smantellato un cittadino di Pergola è come un cittadino di Amandola il cittadino di Amandola è come il cittadino di Fossombrone il cittadino di Fossombrone è come il cittadino di Caglia e di Civitanova noi non accettiamo che la politica e i privati ci mettano i piedi sulla testa perché siamo persone libere e perché siamo persone libere io non ho nessun problema a parlare con alle spalle le bandiere di partiti che culturalmente o ideologicamente sono differenti dalla mia preparazione culturale perché qui le responsabilità sono trasversali oggi questo sit-in e questa manifestazione avrebbe dovuto essere organizzata dai partiti politici che si differenziavano dal crimine che nei confronti dei cittadini sono stati compiuti e stanno per essere compiuti dentro questo palazzo questo non è più il palazzo dei cittadini non è più il palazzo dei politici che stanno al servizio dei cittadini ma è diventato il palazzo di politici che si servono dei cittadini per fare altri interessi che non sono quelli della nostra comunità e della nostra terra quando nascono comitati nei nostri territori significa molto chiaramente che vi è stato il fallimento della politica la politica deve tornare ad organizzare, a pianificare, a progettare il futuro dei nostri territori con un messaggio chiaro gli ospedali sono infrastrutture vitali per far vivere le nostre città senza diritto alla salute non c'è città che esista non c'è giovane che rimarrà sulle nostre montagne o nelle nostre colline allora viva la democrazia e che i cittadini si riprendano questo palazzo che torni ad essere la culla della civiltà marchigiana e non la culla delle società private e della sanità cacciamo ceriscioli ma cacciamo in tutti i partiti quei personaggi che si sono venduti per contributi elettorali e non alla sanità privata grazie a tutti via le privatizzazioni sanità pubblica avanti il prossimo il posto per tutti sì 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 sono di Pesaro sono stato candidato come sindaco un anno fa uno dei cavalli di battaglia che abbiamo portato avanti era quello dell'ospedale unico cioè quello di non voler l'ospedale unico come punto saliente del nostro programma purtroppo quello che si sta prospettando in questa regione sono ospedali unici con tanto di sanità privata che si sta privatizzando volevamo semplicemente volevamo appunto portare questo piccolissimo apporto dalla zona di Pesaro dalla città di Pesaro per ribadire la nostra ferma posizione al piano sanitario regionale e agli ospedali unici tutto qua grazie 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 anche io sono di Pesaro condivido sono anche io sono di Pesaro condivido tutto quanto detto fino ad ora vorrei solo portare una mia esperienza personale da noi quando ci sono le emergenze con le lungaggini delle pronotazioni e via si va in Romagna, noi siamo dei grandi migratori romagnoli, anch'io purtroppo ho avuto questa esperienza due volte, ho dovuto recarmi fuori e sappiamo perché, ma quello che mi domando sulla sanità, quanto si parla, si va ad osannare la sanità pubblica? Sì, forse funziona meglio, in qualche posto funziona meglio, ma è anche vero che con la sanità privata qualche volta funziona meglio, è vero, però è anche vero che quanto si è in emergenza, quanto si deve andare al pronto soccorso, non si va nell'ospedale privato, perché io per avere un intervento alla schiena abbastanza pesante, con le lungaggini della regione Marche, non so dove andavo a finire, sono andato sì in Romagna, però la Romagna dai primi di agosto fino al 28 di agosto erano chiusi, erano chiusi, quindi se c'è un'urgenza, un incidente stradale, un qualche cosa in quel periodo, come nel periodo natalizio, come nel periodo pasquale, come nei periodi di naturale vacanza, non si va nell'ospedale privato, si è costretti ad andare in quello pubblico, quindi è logico che l'ospedale pubblico paga e l'ospedale privato guadagna e guadagna. Sì ecco amici, allora io vi voglio raccontare, non sto a ripetere tutto, faccio parte del comitato pro ospedali pubblici, vi voglio raccontare l'esperienza di Sasso Corvaro, dove in campagna elettorale questi signori di questo palazzo racconteranno che hanno creato la Villa Montefeltro. Se voi vi capita di passare a Sasso Corvaro, fuori dall'ospedale, vedrete un bel quadretto dove si vede una clinica all'avanguardia, cioè il San Raffaele di Milano della situazione dove in realtà poi abbiamo a che fare con un ospedale pubblico innanzitutto che ci hanno chiuso dicendo che non c'erano i fondi, dicendo che non potevamo permetterci i servizi, raccontando purtroppo le forze politiche locali, i nostri sindaci, ci raccontavano che l'ospedale unico sarebbe stata la nostra salvezza, non raccontando poi alle popolazioni locali che l'ospedale unico, quindi gli ospedali unici, chiudono quelli esistenti che hanno già chiuso, ma chiuderanno anche gli altri ospedali o li smantelleranno, esempio nel nostro caso locale, anche se qui c'è rappresentanza di tutte le marche, a noi ci toglieranno l'ospedale di Urbino, l'unico ospedale di zona che abbiamo, che già per andare nell'ospedale di Urbino dove ci posizioniamo, nelle zone più lontane del Monte Feltro, perché stiamo parlando del Monte Feltro, praticamente già c'è quasi un'oretta di strada, diciamo che chi è un po' più vicino, dai tre quarti d'ora alla mezz'oretta di strada, l'ospedale unico di Pesaro a noi ci costerà, per esempio dove abito io, mi costerà un'ora e un quarto, un'ora e mezza di strada, il risultato sono, non c'è un piano di urbanizzazione, la progettazione dell'ospedale unico, non c'è un piano di urbanizzazione, non ci sono i mezzi pubblici, non c'è assolutamente nulla e ci smantellano gradualmente i servizi. In campagna elettorale il signor Ceriscioli che cosa ci racconterà nel Monte Feltro, con l'aiuto anche di sindaci e amici perché bisogna dirlo, ci racconterà che ci hanno creato un privato, gli hanno dato la bellezza di 60 posti letto, noi ci hanno chiuso l'ospedale, non abbiamo niente, non abbiamo nel pronto soccorso, non abbiamo il primo intervento, non abbiamo assolutamente più nulla, non abbiamo servizi locali, ma gli danno 60 posti letto. Che uso farà questo privato dei 60 posti letto? Un uso assolutamente che tutto ha a che fare tranne il servizio locale, perché farà già in moto una clinica, ma aumenteranno i servizi, ma servizi che scelgono loro, quindi servizi che loro vanno a pescare da tutto il bacino d'utenza della nostra regione, che vanno per fare la catarrata, robe del genere, ovviamente servizi che decidono quale fare perché devono guadagnare, questo lo si capisce, il problema è che non si capisce per quale motivo un privato le strutture non se le faccia nelle proprie strutture, ci investa dei soldi, non che prendi un ospedale pubblico, lo chiudi, ti prendi poi pure i soldi perché sono stati pure finanziati, cornuti, mazziati e pastodati, quello è quello che sta succedendo. Adesso questi in campagna elettorale ci stanno raccontando, ci stanno raccontando sta gente che potenzieranno, incominceranno a potenziare i primi interventi, anche lì assoluta fesseria, non è vero, noi non abbiamo neanche l'assistenza sull'emergenza, noi chiediamo da anni, ci stiamo ammazzando per chiedere quattro cose, noi non chiediamo chissà cosa la luna, sappiamo benissimo che gli ospedali degli entroterra non possono essere certo paragonabili agli ospedali di riferimento che non dimentichiamo, Pesaro, Urbino nella nostra provincia, ma tutti gli altri paesi, cioè quelli delle città sono anche i nostri ospedali di riferimento e anche il nostro interesse degli entroterra che funzionano e siano efficienti, ma gli ospedali unici non possono essere la soluzione perché tolgono risorse, tolgono assolutamente risorse, la sanità la dobbiamo avere tutti, negli entroterra abbiamo dei problemi, innanzitutto per gli anziani, gli anziani non possono essere sbattuti a due ore da casa senza un mezzo pubblico, noi il nostro comitato piangono i telefoni, piangono i telefoni di gente anziana che non sa come fare, come fare a raggiungere, ci sono i malati, ci sono gli handicappati, ci sono gente che hanno problemi e questi qui ci stanno raccontando fesserie e lo devo dire qui davanti a tutti, non soltanto le maggioranze, anche le opposizioni devono essere chiare perché ci stanno parlando di sanità domiciliare, di assistenza domiciliare che ci preoccupa perché l'assistenza domiciliare, sappiatelo, lo leggerete nei programmi della maggior parte dei partiti, andate a vedere quello che c'è da tutte le parti del sud escluso, si parla di assistenza domiciliare, dimenticandosi di parlare degli ospedali perché se tu mi vai a cudire un anziano a casa mi sta anche bene ma tu mi dai anche l'ospedale perché quell'anziano non può essere messo in mano a un infermiere, quell'anziano deve essere diagnosticato da dei medici ospedalieri e quando quell'anziano sta male dall'ospedale ci va avanti e indietro, così voi me lo state condannando a morte, vi accompagno serenamente a casa vostra nel vostro letto perché nei nostri anziani sta succedendo questo, stanno rinunciando alle cure, abbiamo i nostri figli, i nostri nipoti, scusate mi sentivo ancora più giovane ma sono vecchio pure io, abbiamo i figli dei nostri figli che hanno paura a partorire a Urbino, quindi a un'oretta da casa ti ricoverano, quando hai anche un primo, qualsiasi problema ti ricoverano e tra i ricoverati chi c'è? Tutta la gente che gli hanno chiuso gli ospedali ma immaginatevi una cosa, Urbino ci arrivi, ripeto, parlo di Urbino ma vale per tutti, dai 45 all'oretta, ma se vai a Pesaro ti sei incinta e devi partorire, tu ti fai praticamente da un'ora a un'ora e mezza e con quali strade? Dove sono i mezzi pubblici? Allora mi urbanizzi, allora qui non si urbanizza, non si fa assolutamente nulla e si promettono i palazzi perché? Perché si fanno delle scelte sui numeri, quei maledetti numeri che in una regione di pochissimi abitanti dovremmo guardare anche un altro parametro, allora io cosa dico se dobbiamo fare i parametri? Chiudiamo tutto in questa regione perché allora noi siamo un milione e mezzo, ci sono regioni che sono molto di più, allora andiamo a fare la salita solo in altre regioni, scusate, questo è il concetto, il concetto è questo, che dobbiamo avere tutti gli stessi diritti, noi da anni chiediamo il minimo, il minimo chiediamo, che poi sostanzialmente è inutile farla difficile, è quello che avevamo nel 2015 quando ci hanno chiuso la sanità sostanzialmente, più o meno vogliamo ritornare lì, quindi è sostenibile, neanche dire che non è sostenibile, anche perché tutti questi soldi che trovano per il privato, tutti questi fondi e questi debiti che noi avremo per gli ospedali unici, ma chi li paga? E per quanti anni? Non potremmo sistemare la sanità e allora perché non mi vanno a vedere la mobilità passiva, per quale motivo? Noi ce ne dobbiamo andare in Romagna, il Montefento se ne vuole andare in Romagna, tutta l'entroterra, le zone montane della media e bassa marca se ne vogliono andare in Umbria, questo è il risultato che voi state andando a fare sui territori, non vi basta che avete già perso dei comuni che erano favolosi, ci siamo persi già un pezzo di territorio e qui la gente se ne vuole andare, andate avanti così, prendetevi pure i voti ma non avrete più la gente perché state spopolando gli entroterra, avrete il deserto, avrete ok? Ricordatevelo questo là dentro in quel palazzo, votate pure la maniera dei vostri interessi, ok? E se eravamo in un altro paese dico pure di più, secondo me era anche illegittimo che un privato si metteva dentro una struttura pubblica, il privato si vado a fare gli investimenti nelle proprie strutture, se gli va bene, bene, altrimenti se ne vadano a fare le strutture dall'altra parte dove hanno quei maledetti numeri perché noi abbiamo bisogno del servizio, l'ultima parola, non solo avete demoralizzato le persone, la gente ormai non ce la fa più, è entrata in depressione, qui dovevamo essere un sacco di persone, siamo in tanti ma non come a sufficienza parlando di sanità, qui non c'è il leader, non ci sono sardine, non abbiamo i Salvini, non abbiamo nessuno, qua siamo cittadini normali e qualche forza politica d'opposizione che ringrazio tra l'altro. Allora il discorso è questo, dobbiamo svegliarci, dobbiamo riprenderci i diritti, è un consiglio, la telecamera grazie, è un consiglio che do a tutti quanti, è un consiglio che do politico, ovviamente non è una dichiarazione di voto, il consiglio che do è controllatevi le vostre forze politiche e pressatele perché i programmi regionali, attenzione che se non si fa nulla, i programmi regionali secondo me non garantiranno quello che noi stiamo chiedendo. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, io vi ringrazio voi che siete qui presenti, come dicevo poco fa Gaetano siamo in pochi rispetto a quelli che dovremmo essere, non facciamo più della volta scorsa, quindi già secondo me è un bel passino avanti, vuol dire che cominciamo ad aprire tutti gli occhi, io sono sindaco da tre anni e mezzo, da tre anni e mezzo che dico che questo piano sanitario non va bene, non va bene perché la nostra regione, la nostra provincia in particolare non può permettersi un ospedale unico con le strade disastrose, come diceva Gaetano devi fare un'ora per trovare un ospedale, è una follia, è una follia l'ospedale unico, è una follia quello che costa, nessuno ci ha mai dimostrato i vantaggi di avere un ospedale unico rispetto al potenziamento e al recupero dei piccoli ospedali, ci hanno chiuso Fossombrone, Cagli e Sasso Corvaro, con il risultato più urbino, più vicino. Con il risultato più urbino oggi ha il collasso, Fossombrone è diventato un cronicario in cui ancora per fortuna alcuni servizi ci sono, ma Cagli e Sasso Corvaro non c'è praticamente più niente, quindi del privato non possiamo fidarci, non siamo contrari al privato a prescindere, purché offre servizi paralleli, integrativi, non può entrare nei nostri ospedali, costruiti con i soldi dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri e offrire quei servizi che la sanità pubblica ufficialmente non è più in grado di offrire, ma non lo vuole offrire, perché in realtà i soldi per loro ci sono, ma poi il privato chi lo controlla? Per quanto tempo? Ho parlato con un medico per le protesi, mi diceva che quando fa visite per i privati su 10 ginocchia ne prescrive 8, quando lo fa per il pubblico ne prescrive 2, questa cosa poi chi la verifica? Chi ce la controlla? Per cui ripeto, contrarietà al privato, l'ospedale unico, quello che diciamo già da sempre. Un'altra cosa grave, tanto queste cose poi sono state già dette, noi come sindaci di Area Vasta siamo stati convocati nel novembre del 2018, è passato più di un anno, eravamo 23, una metà, ma sui 23 e 22 abbiamo chiesto di rivedere il piano sanitario convocando tutti i sindaci, nessuno ci ha mai convocati, è più di un anno che non ci sta sentire nessuno, perché evidentemente il parere dei sindaci non gli interessa, però siamo noi che siamo stati eletti da voi, per cui sarebbe giusto che noi fossimo interpellati, quindi loro vanno avanti per la loro strada e ne sta pagando le conseguenze, fra pochi mesi se andranno a votare sicuramente pagheranno il conto, grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Scavolini Francesco, sono pesarese, candidato a sindaco per il comune di Pesaro, volevo soltanto fornirvi un dato che potrebbe essere interessante per quello che riguarda la questione finanziaria della sanità marchigiana, non so se lo sapete, forse sì, il costo preventivato per l'ospedale unico di Muraglia, Pesaro, carte alla mano, è più di un miliardo e cento milioni di Euro, ripeto, avete udito bene, un miliardo e cento milioni di Euro, questi soldi da soli forse basterebbero a risolvere tutti i problemi della nostra sanità marchigiana, dico questo perché evidentemente abbiamo fatto una battaglia a Pesaro su questo ospedale unico, abbiamo addirittura scritto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al signor Conte e proprio in questi giorni ci è arrivata una risposta, noi abbiamo chiesto che non si facesse questo ospedale unico di Muraglia, ma che venisse potenziato il San Salvatore, c'è un'area contigua, vastissima a Pesaro, l'area della caserma, dove potrebbe essere benissimo attraverso un tunnel sotterraneo ampliato il San Salvatore, fare addirittura un parcheggio immenso, l'heliporto etc., con una spesa molto ridotta. Allora, il signor Conte ci ha detto, guardate che il parere che il nostro ufficio ha dato su questo ospedale unico non è un parere favorevole, ossia avevano spacciato questi della Regione il parere del DIP e del Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri come un parere favorevole, invece l'ufficio ci ha risposto con una PEC dicendo che in realtà non è un parere favorevole, anche se il nostro non è un parere vincolante, ossia la Regione può fare quello che vuole. Allora, vi prendo ancora un minuto per dire cosa, è importante questo discorso dell'ospedale, batterci insieme, è vero che ci saranno le elezioni, molti di noi sono supposizioni politiche anche diverse evidentemente, però è ora, così come nei comuni le liste civiche, attenzione, in varie città delle Marche le liste civiche sono riuscite ad esprimere degli amministratori, allora chiediamoci se non fosse possibile a livello regionale, visto che i partiti purtroppo, con qualche rara eccezione, sono schierati per l'approvazione di questo piano, chiediamoci se non è il caso di presentare una lista civica a livello regionale che possa essere competitiva, è una proposta credo interessante, io ripeto mi chiamo Scavolini Francesco, faccio parte, sono Presidente di un'associazione che si chiama attenzione, servire Pesaro insieme, potete trovare su Facebook tutte le referenze, le nostre proposte, credo che sia, questo non è propaganda che sto facendo, ma è un discorso politico, perché se rimaniamo o continuiamo a essere divisi all'interno dei vari gruppi non si risolve niente, i soliti noti avranno la meglio. Un'ultima cosa, questo 1 miliardo e 100 milioni, attenzione avete udito bene, 1 miliardo e 100 milioni di Euro, chi li mette questi soldi? Attenzione, la società Renco, una multinazionale che ha presentato il progetto approvato dalla Giunta Ceriscioli, attenzione, non sborserà un centesimo, voi mi direte ma cosa dici? È un project financing, quindi è il privato che dovrà costruire questa struttura, bene, io vi dico e ripeto, questa multinazionale non sborserà un centesimo, perché? Perché all'inizio dei lavori il 50% sarà anticipato dalla Regione, cioè da noi, dai contribuenti, nel frattempo la Renco che cosa potrà fare? Potrà andare in banca, oggi sapete che i tassi di interesse sono bassissimi, allora la Renco potrà prendersi un bel mutuo in banca nel frattempo da subito, magari investire i soldi, visto che è una multinazionale, in paesi dove i tassi di interesse sono altissimi e ve ne sono e a questo punto intascarsi il frutto di questi investimenti, dopodiché applicherà i soldi che ha guadagnato, nel frattempo la Regione Marche che avrà dato anche una garanzia sul mutuo, attenzione, la Renco accenderà un mutuo ma la fideiussione la darà all'ente pubblico, quindi ragazzi questi sono discorsi importanti, un'ultima cosa davvero poi chiudo perché sto esagerando, a Mestre Venezia, andate pure su internet, Mestre Venezia hanno costruito un ospedale con lo stesso sistema di project financing che la Regione Marche vuole adottare per gli ospedali unici, costo totale 1 miliardo e 700 milioni, sono in crisi anche in Veneto, il ricchissimo Veneto e noi vogliamo imitare questa vergogna per un ospedale unico, per gli ospedali unici, stanno piangendo anche in Veneto per questo, quindi cari politici se ci ascoltate mettetevi una mano sulla coscienza e rinviate, rimandate questo piano, ecco perché la gente veramente è stanca, grazie! c'è qualcuno che vuole parlare? io sono un cittadino di Fossumbrone, allora voglio ricordare a tutti i presenti che hanno chiuso tanti ospedali, questa giunta ha chiuso tanti ospedali nel 2015, nel 2015 senza aver mai fatto un piano economico dietro e che vuol dire che gli ospedali, non è vero quello che ci hanno fatto credere, che gli ospedali erano chiusi per mancanza di fondi, gli ospedali non sono stati chiusi perché mancavano i soldi, gli ospedali sono stati chiusi per una scelta politica di un partito e non si capisce in base a quale criterio, le soluzioni che adesso pone questo partito quali sono? Quello di far trasferire le popolazioni tutte verso il mare spopolando l'entroterra perché nell'entroterra stanno togliendo tutti i servizi a cominciare dall'ospedale, soffrofogliamo la costa con dei costi enormi per tutti e un abbassamento della qualità del tenore della vita, quindi scelte di questo tipo che danneggiano tutta la popolazione, i risultati di questo lo vedremo soprattutto nel futuro, quando la gente dalle campagne sarà costretta ad andarsene perché non ha più i servizi. Nel frattempo si sta finanziando le ditte private nel settore della medicina, se è vero come ha detto quello che ha parlato prima di me che l'ospedale di Pesaro viene a costare 1 miliardo e 100 milioni, vuol dire che tutti i cittadini della Marche solo per pagare quell'ospedale devono mettere mille euro a testa e questo è assolutamente assurdo, mentre i vecchi ospedali che hanno sempre funzionato vanno lì, c'è un declino di questi ospedali abbandonati con tante strutture utili che possono essere usati. Queste scelte economiche sono assurde. Grazie, bravo. Non parla nessuno? Raccontate pure, raccontate l'esperienza perché voi... Io parlo al nome del comitato di Iesi, il nostro presidente dentro in giunta. A Iesi succede quello che succede un po' dappertutto, avendo chiuso gli ospedali periferici tutto si è riversato su Iesi, per cui lista di attese assurde, tempi indecenti per prendere visite eccetera. Ma quello che a noi indigna più di tutto è il fatto che a fronte di questi tagli vengono in realtà aumentati gli incentivi per i dirigenti, per cui la sanità è diventata un'azienda, come in fondo si chiama, azienda, al pari di una banca o di qualsiasi altra impresa. Mentre sulla salute non si scherza, la salute è un bene primario per l'eccellenza. Io tralascerei il colore delle bandiere, rosso, bianco, non è questo che conta. La salute è trasversale, è democratica, riguarda tutti e non riguarda soltanto gli anziani come è facile pensare, gli anziani perché hanno i vari acciacchi, disagi eccetera. Ma io penso anche ai giovani che purtroppo non sono coinvolti o non si sentono coinvolti, perché avremo un sistema sanitario nel quale ammalarsi sarà un privilegio e curarsi sarà un privilegio e questo è assolutamente indecente, perché la salute è pubblica. Una parola vorrei spenderla a questo punto per il personale. Il nostro motto di Iesi è prendiamoci cura di chi ci cura. Non è un comitato che va contro qualcuno, non è un comitato che ha nemici, è un comitato che vuole promuovere il dialogo, la collaborazione, soprattutto con quelle persone, mi riferisco al personale ospedaliero, che lavorano sopra le forze perché vengono ridotti, aumentati i turni, ridotte le fede, accorpati le parti e si prendono veramente cura della nostra salute. Ci sono o non ci sono? A questi personali voglio fare un grosso applauso, perché giornalmente combattono in trincea, sopra le forze, sottopagati, perché l'ospedale è diventato un'azienda e non si occupa più di tutelare il diritto primario, fondamentale, costituzionale, che la salute. Quindi vorrei che questi politici ci pensassero bene a quello che fanno, perché noi non siamo numeri, noi siamo persone e noi paghiamo tasse anche ingenti sulla sanità, non certo per aumentare i loro stipendi, ma per dare la possibilità a tutti di colarsi, di qualsiasi colore politico e di qualsiasi età. A Gliessi succede questo, purtroppo non succede niente di diverso che in altri ospedali. Sono molto contento che il problema sia sentito a livello regionale, perché è inutile farsi guerra tra poveri, non è che Gliessi tiene qualcosa a scavito di Fabriano o viceversa. Dobbiamo essere tutti quanti uniti, impegnati, fare voce unica e far vedere dignitosamente che siamo ancora capaci di indignarci, nonostante ci tengono disinformati. Basta, non intanto lo dire. Grazie a voi. Un applauso veramente ci tengo a farlo, non so se sono presenti o meno gli infermieri, tecnici del laboratorio e medici, perché io lavoro in ospedale, li vedo con quale abnegazione, con quale coraggio, si prendono cura veramente di noi. E noi vorremmo prenderci cura di loro e combattere anche per loro, perché so che non tutti sono disposti a metterci la faccia, visto che sono dipendenti, posso anche comprenderli. Quindi aspetta anche noi dare una mano a loro. Fare sofferenza per i medici? Sono in sofferenza, perché se un reparto viene tagliato... Sì, fanno tolidopino, fanno le ferie, esatto, e lavorano sopra le forze. Sì, però lavora sulle persone, non lavora sui numeri, questa è la differenza. Benissimo, allora buona giornata a tutti, grazie per essere intervenuti, perché l'unione... Voce, voce! Alza questo, l'unione fa la forza, in questo momento abbiamo bisogno di tanta unione e tanta forza. Io più di così, la voce ce l'ho... A Fano, a Fano... No, no, ma non è l'emozione, è l'apparecchio. A Fano siamo seriamente preoccupati quando non stiamo bene, perché non sappiamo come andrà a finire. Non abbiamo più la forza, la certezza e la sicurezza di poter essere curati come un tempo. E se questo, se l'ospedale, se il documento, che è la delibera 523 firmata dal Presidente della Regione e dal Sindaco di Fano, deve essere il modello per tutti gli ospedali delle Marche, beh, allora dobbiamo essere veramente preoccupati in tutte le Marche. Io vi leggo quello che vi voglio dire per essere più sintetico, perché la storia di Fano e dell'ospedale di Fano è molto lunga. Si sta sentendo male il Presidente. Aia, adesso anche il Presidente. Si sta sentendo male. Allora, scusate, il vento. Fano, l'ospedale Santa Croce di Fano un tempo era un riferimento molto importante, non solo per la città, ma per la vallata del Metauro e per parte della vallata del Cesano, anche per Pesaro e per chi veniva da fuori Regione, perché Fano era un ospedale che funzionava molto bene, che c'erano le eccellenze ed era un riferimento veramente forte. Ad oggi Fano c'è rimasto ben poco, ben poco. È una scatola più o meno semivuota. Se questo è il riferimento, se questo è il modello per tutta la Regione, noi non dobbiamo stare qui, ma dobbiamo andare lì dentro, lì dentro a farci sentire, perché ci stanno togliendo il diritto a curarci. In questo momento stanno firmando la morte della sanità nelle Marche, non solo a Fano. e questo non lo dobbiamo permettere, non lo possiamo permettere, perché la salute è molto importante e ci risoglie il suo PD e i suoi partiti, lo devono capire. Scusate. Ma dentro non ci potremmo andare? Aspettiamo qua, andiamo dentro. Il Presidente della Regione e il Sindaco con questo accordo forse non si sono resi conto che l'ospedale di Fano da ospedale è diventato stabilimento, ha perso il suo nome e la sua facoltà di essere un ospedale. All'interno è rimasto poco più che qualche suppellettile, qualche sedia e qualche letto per qualche ricovero in dei hospital. All'ospedale di Fano è stata tolta la chirurgia H24 di urgenza e quando non c'è questa specialità l'ospedale non si può più chiamare ospedale. Il pronto soccorso, perché è inutile che vi dica che i primari non sono più a Fano, sono a Pesaro. Noi abbiamo vissuto in questi anni, abbiamo ascoltato parole o documenti scritti dove il Presidente della Regione diceva che un eventuale cambiamento, ma solo un eventuale cambiamento ci sarebbe stato con la costruzione del cosiddetto ospedale unico che noi non vogliamo, invece lo smantellamento c'è stato prima che venisse messo un mattone di questo fantomatico ospedale unico. Non ci sono più i reparti se non qualche pseudo reparto o qualche stanza che cercano di far passare i cittadini fanesi come reparto, ma non è così, perché voi lo sapete meglio di me che quando i primari non sono più presi presenti, non possiamo più chiamarli reparti, quel poco che c'è rimasto. Un'altra farsa è quella del pronto soccorso, scusate un attimo, mi si era bloccato il dito. Un'altra farsa è quella del pronto soccorso, cercano di far passare come codice rosso il pronto soccorso di Fano intasato già dagli ospedali che hanno chiuso. Il codice rosso è stabilizzazione, attenzione a queste parolone che loro scrivono nei loro documenti che dicono tutto e niente, bisogna capirle bene. Il pronto soccorso di Fano, il codice rosso di Fano è di stabilizzazione, significa che un paziente che ha bisogno di essere stabilizzato perché in codice rosso viene inviato a Pesaro. Io direi che ho terminato, è inutile dirvi che il modello è lo smantellamento di tutti gli ospedali per la costruzione degli ospedali unici, che non è altro che un interesse, una lobby legata a tanto miele che c'è su quei mattoni. Dobbiamo essere chiari perché questa è la verità e questo è l'interesse, c'è tanto miele in quei mattoni. Grazie. Volevamo dire alcune cose riguardo questo piano sanitario regionale, vi chiediamo di ascoltare qualche secondo le nostre critiche a questa vergogna che sta accadendo nel palazzo regionale, un palazzo che dovrebbe tutelare i diritti delle persone e invece dimostra anche con questo atto di stare dalla parte del profitto e dei privati. Noi siamo di potere al popolo, abbiamo poche cose da dire, vi preghiamo gentilmente di stare ad ascoltare. Grazie. In questo palazzo, in questo momento, sta avanzando la logica secondo la quale la salute è sempre meno un diritto ed è sempre più un bene da acquistare sul mercato. Come siamo arrivati a questo? Facendo decadere progressivamente le strutture pubbliche, sia ospedaliere che territoriali, perché stanno male anche distretti sanitari, consultori e tutte le strutture che avevano promesso che avrebbero potenziato, ma non l'hanno fatto. Per le aziende private che drenano ricchezza pubblica nelle loro casse è un business epocale. Per contro il sistema sanitario nazionale viene progressivamente svuotato della garanzia dei diritti universali alla cura, all'assistenza a familiari disabili, alla prevenzione. Vengono espropriati i diritti di tutti in favore del profitto di pochi. Quello che potere al popolo chiede è l'esatto contrario, curare secondo il diritto e non secondo il reddito. Attraverso lo svuotamento del servizio sanitario pubblico passa più facilmente l'idea che lo Stato non possa garantire efficacia delle cure, non è vero. Non è vero perché il privato deve anche fare profitto sulle azioni che fa, mentre il pubblico può reinvestire tutto nei servizi. Gli ospedali quindi vengono chiusi utilizzando la politica dell'algoritmo. Le liste di attesa si allungano e al cittadino non resta altro da fare se non rivolgersi al privato.